Grazie a tutti! Sì, è la prima volta che las corro, ma mi sono molto contenta con questo, la verità. E allora, la nostra nera espanola dice che è notizia, che si parla a spagnolo è ugual, tanto è fuori la prima volta che corriva e siamo contenti, molto contenti con il risultato. E allora, che pensi che tu hai fatto il trofeo? Sì, credo che è un trofeo che ha molto livello, in generale, e già fa due anni che non vengo, e questo anno ho deciso di tornare ancora, perché la verità è che mi piace molto. Io credo che è un trofeo che è ben organizzato, un trofeo che è ben organizzato, ha due anni che non vieno, ma voltei ancora, sicuramente mi piace molto e penso che vale la pena.